ciao cari amiche eccoci arrivati alla seconda puntata per realizzare la rosa love allora abbiamo realizzato nella prima puntata il piccolo bocciolino realizzato con tre petali adesso sul tavolo mi ritrovo altri cinque petali singoli e tre fustellati interi perché in totale bisogna tagliare cinque fustellati interi vi ricordo che potete vedere il video sul canale youtube la ravella video allora prendiamo i singoli pezzi e andiamo a modellare in questo modo qua tutti i petali prima si girano tutti i petali verso il basso in questo modo qua utilizzando va benissimo anche uno di questi bastoncini un pochino più più grandicelli ecco in questo modo la carta è una carta antispappolo da 230 grammi acquerellabile quindi una gran bella carta e poi andiamo a lavorare i nostri petali qualche petalo verso l'esterno i laterali e qualche petalo verso l'interno ecco qui poi man mano che si realizzano le rose si possono fare rose più chiuse o rose più aperte questo qua è un attimino a vostra la vostra manualità sicuramente lavorare con la carta si fa molto prima che dover scaldare il tessuto per poterlo modellare ecco qua quindi questo qua abbiamo fatto vedete cosa importantissima vanno modellata a s cosa vuol dire modellato alle s si lavora così sì c'è come si 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 modella si dove si deve sfondare petalo per petalo in questo modo pace proprio noi stiamo facendo una modellazione della carta allora io non amo tanto lavorare con anche se mi piace il musgumi però preferisco molto di più la carta e lavorare in questo modo c'è proprio molto modellarla in mano così via si impara più a guardare che a fare all'inizio cioè poi man mano le fate vi verranno veramente molto molto belle e adesso anche questo qua subito lo andiamo a modellare così allora come potete vedere un petalo all'interno un petalo all'esterno e che poi quando si monta può cambiare tutto perché in fase di montaggio magari un petolo lo devo girare perché mi è comodo quindi non è che sia una regola anche perché voi dovete trovare il vostro modo io vi do l'esempio di come la faccio io in questo modo qua ecco qui e poi andiamo a sempre richiuderla all'interno della nostra della nostra mano ecco questo petalo qua non l'ho girato né da una parte né dall'altra e non ci stava quindi lo dovevo proprio girare in questo modo e siamo a due e adesso quest'altro quindi rivediamo bene con lo sto lavorando con la battecchina questa un pochino grossa la rosa love è veramente molto bella vi ricordo la fustella è questa questa qua è la rosa realizzata in in tessuto e per il tessuto bisogna usare il biadesivo adesso chiedo alla regia se può far scorrere l'immagine ecco qua come potete vedere in questo caso è stato utilizzato il tessuto ed è stato lavorato con il via il via adesivo ritorniamo alla nostra carta vado proprio a modellarle tutte per bene prendo adesso un bastoncino più sottile e le vado a girare un pochino una questa qua all'interno questo qua all'esterno più utilizziamo il bastoncino sottile più i nostri petali saranno chiusi ecco qua perfetto fatto questa operazione qui la richiudiamo sempre nel palmo della mano per darle una chiusura adesso abbiamo i nostri tre petali modellati quelli tutti uniti il bocciolino fatto ci rimangono spostiamo questa ci rimangono i nostri petali singoli che andiamo a modellare quindi come potete vedere è una lavorazione comunque è semplice cioè è sempre quella ok cioè dobbiamo proprio rigirare le punte delle nostre dei nostri petali e creare una dalle questa forma qua un po a s vedete proprio che dalla forma della s andiamo a fare l'ultimo petalo quindi ecco qui e ne abbiamo ancora due quindi non era l'ultimo mi erano scappati gli altri allora vi ricordo che potete poi seguire tutti tutte le mie news sul nuovo blog del del sito quindi potete accedere alle pagine di creare insieme punto it e trovare anche questa sezione blog dove scoprire varie varie spiegazioni varie tecniche e scoprire un po tante tante curiosità ecco qui ne rimane uno che non lavoriamo adesso quindi andiamo a prendere tutti i nostri pezzettini lavorati bocciolo fatto andiamo a prendere la colla e inseriamo il bocciolino mettiamo la colla nel centro una buona colla e andiamo a inserire il bocciolo questa è proprio la fase del montaggio quindi andiamo a lavorarlo così e lo proprio glielo mettiamo nel centro aspettiamo un secondo che si asciughi per bene perfetto così secondo bocciolo intero lo andiamo a mettere non così uno sopra l'altra ma così vedete che questi petali sono 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 uno che scorrono dentro l'altro cioè nei vari buchi non ci devono essere buchi cioè questo non deve essere posizionato sopra i petali ma lavorato in questo modo qui e prendiamo sempre la colla e glielo andiamo a mettere nel centro in questo modo qui e andiamo a posizionare quindi prima di mettere la colla abituatevi sempre a fare la prova io adesso la metto nella mano in questo modo qua e comincio a modellare i petali singolarmente per farli chiudere quindi questa parte qui andrò a mettere un pochino di colla sul lato del bocciolino qui e andrò a poggiare un petalo che così comincio un pochino a chiudere la mia rosellina quindi questo petalo posso andare a lavorare la rosellina in questo modo vedete vado a girare un po il petalo così così questo qua si può chiudere così vedete come come sta venendo carina più la chiudo più la rosa sarà piccola più la lascio aperta più la rosa sarà grandicella allora adesso però mi metto gli occhiali perché lavoro sicuramente meglio con un pochino ecco qua vado a ad appiccicare in questo modo il secondo l'altro petalo e vado un pochino ad avvicinare tutti i petali al bocciolo allora questo qui posso mettere un filino di colla poca perché poi non si deve vedere e ricordatevi che la colla si pulisce quando è asciutta cioè quando sei asciutta la colla fa dei singoli fili che noi andiamo a mettere a posto questo qua la posso lo posso chiudere così possiamo vedere no così va bene lo vado a chiudere lì quindi un pochino di colla e faccio così se lavorassi con la stoffa stessa identica cosa e vado a rigirare l'ultimo petalo magari all'interno l'ultimo petalo di questo giro è ricordiamoci che i giri sono 5 facciamo una bella inquadratura vedete come come già carina come già bella quindi bocciolo primo blocco intero e questo qua il primo giro questo è il secondo giro intero che lascerò così perché questa è la cosa più importante giro completamente la rosa e vado ad infilare i quattro petali che ho lavorato all'interno così quindi lavoro sotto sopra posizionare i petali in mezzo agli altri questo mi permette di fare la rosa più grande di quelle che normalmente siamo abituate a vedere logicamente questo qua è la rosa è la rosa love quindi mettiamo un pochino di di colla e andiamo a incastrare i vari petali uno dentro uno dentro l'altro in questo modo io non vedo neanche quello che sto realizzando ma come potete vedere sto lavorando al contrario per incastrare tutti i petali che ho già precedentemente lavorato in questo modo vedete qua i fili di colla che si possono ripulire a questo punto giro guardate care amiche avete visto già che rosa grande a questo punto l'andremo a mettere all'interno della nostra mano e in questo modo qua andiamo a lavorare i petali chiudendoli sempre un pochino rigirandoli e lavorando le varie punte allora qua vado a lavorare i petali così e a chiuderli non come il secondo giro che li vado a chiudere tutti ma solamente in alcuni punti per proprio chiudere un pochino la rosa perché a me serve bella bella grande qui un pochino di colla e qua vado a girare il singolo petalo logicamente ogni rosa è differente dall'altra ok dipende molto molto anche dalla vostra manualità ecco qua andiamo a mettere l'ultimo vedete come si sta già chiudendo si sta alzando io adesso la lascerei così metterei l'ultimo giro ho detto troppe volte ultimo che non era vero che era l'ultimo giro però l'ultimo di ogni passaggio andiamo a mettere la colla in questo modo qua quindi questa parte qua andiamo a posizionarla in questo modo ecco qui così dietro rimane perfettamente pulito e l'ultimo petalo questo è veramente l'ultimo petalo che dobbiamo ancora lavorare facciamo in questo modo lo giriamo giriamo questo così e così e dobbiamo fare questo taglio lo dobbiamo dobbiamo andare a tagliare questa punta in questo modo ecco qui mettiamo un pochino di colla e sicuramente c'è da qualche parte che si è creato un buco io il buco in questo allora questo qua via il buco lo trovo qua e ci vado a mettere il mio petalo delle volte può essere un buchino laterale come può essere un buco un buchetto centrale nel bocciolo allora questa come potete vedere è la rosa terminata possiamo ancora andare ad abbellirla rigirando qualche qualche petalo e o se no la possiamo sfumare con le polveri o con la chalc diluita da acquarello allora è veramente come avete visto una tecnica molto semplice veloce si parte da 5 pezzi di fustellato così che li ottenete con la fustella con questa fustella che è la mia fustella e potete realizzare tutte le rose che volete questa ha una larghezza circa di 15 cm ma se volete potete anche realizzarle molto più chiuse io ragazze spero che questo video vi sia vi sia piaciuto potete sempre seguire tutti i miei video sul canale youtube la ravella video sulle pagine dei miei social e ci vediamo in tantissime fiere ciao alla prossima puntata ciao a tutti Grazie a tutti.